freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete. Una specie di capodanno dei freelance. Allora direi che è il momento di dare inizio a questa seconda giornata del freelance camp e oggi sono molto contenta di avere con noi Daniela Filippis di Banca Etica. Banca Etica accompagna e sostiene il freelance camp da un sacco di tempo e noi pensiamo che continuerà a farlo e sappiamo che continuerà a farlo anche adesso che ci trasformiamo in APS. L'altra cosa che voglio dire veramente è che Banca Etica ha sempre portato ai freelance camp dei contenuti di valore il che è vero per molti degli sponsor perché abbiamo sempre cercato di trovare degli sponsor in linea anche con il nostro diciamo con la nostra intenzione di portare di parlare di cose interessanti non di fare delle marchette. Non sempre questo è successo, è successo invece con Banca Etica e anche con Home Exchange che davvero è stata una scoperta molto interessante per tanti e tanti di noi ma a Banca Etica siamo davvero legati da un legame particolare e una grande gratitudine. Daniela la mia banca non è indifferente. Grazie intanto per l'invito oramai è una tradizione come diceva Alessandra da un po' di anni. Io sono Daniela Filippis, sono vice responsabile della filiale di Bologna e lavoro in Banca Etica dal 2010 e mi sono occupata un po' di tutti i servizi a 360 gradi e in questo momento il mio focus è sul credito alle persone giuridiche. Io quest'anno vi proponevo un intervento che era più basato sull'erogazione del credito e come ci si approccia ad una banca, cioè le difficoltà che tendenzialmente riscontro quotidianamente con chi ha una bellissima idea, tanta motivazione, tanto entusiasmo, sta magari cambiando percorso lavorativo e poi magari arriva in banca, racconta la sua storia e c'è sempre un blocco nella comunicazione o comunque c'è qualcosa che non fila esattamente come dovrebbe. E questo perché spesso le persone che incontro sono appunto persone che hanno tanto entusiasmo, tanta motivazione ma che a volte non hanno messo su carta o per iscritto con accuratezza tutte le idee che hanno e questo fa sì che il progetto diciamo ci risulti difficile comprensione. La finanza spesso gioca un ruolo fondamentale anche nella buona riuscita dei percorsi lavorativi, sia perché permette di dare diciamo un po' di gambe a un'idea, sia perché permette di fare una riflessione su quello che può essere il fabbisogno formativo o economico di ognuno di noi rispetto al percorso che si sta intraprendendo. Ecco, Banca Etica in questo è un po' particolare rispetto alle altre banche perché ci basiamo su due pilastri fondamentali. Per noi l'erogazione del credito non è mai semplicemente erogazione del credito ma facciamo sempre una valutazione socioambientale e questo vale anche per le libere professioni, vale anche per tutte le persone giuridiche con cui ci confrontiamo. Questo significa che somministriamo un questionario di impatto e valutiamo ogni aspetto che sia sociale e ambientale per le organizzazioni più strutturate anche la governance e la gestione delle attività. Questo perché? Perché abbiamo una sorta di promessa che abbiamo fatto ai nostri risparmiatori in quanto Banca Etica pubblica online tutti i finanziamenti erogati alle persone giuridiche e quindi dobbiamo mantenere questo accordo fatto. Per noi l'impatto sociale è fondamentale, quindi valutiamo sia nell'erogazione del credito che poi nella raccolta valutiamo sempre quale sarà l'impatto sociale che andiamo a sviluppare. Dico nella raccolta perché chi ha partecipato alle scorse edizioni ha avuto già degli approfondimenti sui nostri fondi etici, su tutti i nostri prodotti legati alla finanza etica, quindi noi facciamo un'attenta valutazione dei fondi di tutti i panieri nel quale vogliamo partecipare attraverso una rigorosa ricerca delle aziende in cui vogliamo investire e la stessa cosa facciamo nell'erogazione del credito, facendo una rigorosa ricerca anche nell'erogazione proprio del credito. Abbiamo una valutazione socioambientale che per le libere professioni, per chi per le aziende inferiori tra i dipendenti è semplicemente un questionario che poi viene validato e approfondito dall'operatore e abbiamo però anche la figura del valutatore sociale che sono dei soci volontari di banca etica che vengono formati ad hoc per approfondire tutte le tematiche legate al questionario stesso. Quindi che cosa si fa quando si deve approcciare con un istituto di credito e con banca etica? Intanto bisogna fare un identikit, cioè una carta d'identità dell'attività, del percorso formativo, del percorso lavorativo che si vuole andare a svolgere perché più si è chiaro nella comunicazione, più passa il concetto, più la narrazione è accurata, più il servizio finanziario, ma come a volte diciamo noi il vestito finanziario calza al progetto, all'idea che stiamo andando a finanziare. Proprio perché vogliamo erogare un servizio che sia corretto, non vogliamo né fornire strumenti che non servono perché secondo noi è fondamentale e fa parte anche questo dell'etica, della sostenibilità e della trasparenza quello di fornire esattamente il servizio che serve e perché vogliamo accompagnare come compagni di viaggio, non ci definiamo mai una banca ma siamo sempre partner di qualunque progetto sia in partenza. E questo pensiamo che sia fondamentale perché la carta d'identità di cui vi parlavo, l'identikit necessario di cui vi parlavo deve essere fatto su un piano che sia sia qualitativo, cioè raccontarsi, raccontare da dove nasce l'entusiasmo, la motivazione, l'esperienza che ogni persona ha e che porta nel proprio percorso di lavoro ma anche quantitativo, cioè nei numeri. E questa è la parte un po' più dolente ogni tanto quando diciamo ci confrontiamo con clienti che sicuramente hanno l'ispirazione, hanno la visione e poi devono magari mettere a terra il progetto. Non mi dilungo su questa parte che sicuramente insomma in parte conoscerete, in parte potete approfondire, però mi dilungo invece sulla parte legata alla pianificazione. Pianificare è importante, è importante sia nei percorsi lavorativi ma anche nei percorsi familiari. Io come dicevo ho un'esperienza che va un po' su tutti i servizi bancari, quindi ho fatto finanziamenti privati, ho fatto investimenti, ora mi occupo di finanziamenti alle aziende. Mi rendo conto che pianificare è il nodo cruciale di tutti i passi futuri per dare un po' gambe robuste a qualunque idea si voglia portare avanti. È un po' come quando, non so se avete affrontato tutti un trasloco, io l'ho fatto da poco e quindi ci penso spesso, abbiamo questa stanza piena di scatoloni e vogliamo mettere ogni cosa al giusto posto e chiedendoci se è necessaria o se non necessaria e da questa collocazione corretta di tutte le idee che magari abbiamo diamo la strada e creiamo un percorso per questo nostro progetto. La banca etica nel momento in cui deve valutare la possibilità di erogare del credito soprattutto ai soggetti con partita IVA, quindi a lavoratori che non sono tra virgolette ordinari come un dipendente diciamo, deve fare delle valutazioni e le valutazioni sono sempre più complesse perché per quanto spesso ci confrontiamo con tantissime attività diverse, con tantissime strutture diverse e quindi di conseguenza dobbiamo andare a fare una composizione dei redditi, cercare di capire se essenzialmente c'è la sostenibilità nel progetto o meno e quindi tutte queste diciamo analisi ci conducono alla soluzione finale che è quella che decidiamo tendenzialmente insieme al cliente, insieme alle persone che si presentano e che ci presentano le loro idee. Per i freelance, per i libri e professioni noi abbiamo tutta un'offerta commerciale che ovviamente troverete sul nostro sito internet, cito solo alcuni passaggi fondamentali se vi possano in qualche modo interessare e noi sull'attività ordinaria accompagniamo diciamo la vostra professione con conti correnti, Libro o Libro Light che significa conto per liberi professionisti, abbiamo un'offerta commerciale sui post anche su post wireless con smartphone e così via e proponiamo anche strumenti di raccolta, questo perché pensiamo che pensare al futuro sia fondamentale. Negli strumenti di raccolta probabilmente se avete partecipato alle scorse edizioni avrete già sentito parlare dei piani di accumulo o nonché dei fondi pensione, ora non mi dilungo sulla parte relativa agli investimenti anche se sarò qua nel caso qualcuno volesse approfondire. Quello che volevo che passasse oggi come messaggio di questo intervento è proprio il fatto che per dare gambe alle proprie idee bisogna costruirle insieme e che la finanza può fare il suo ruolo e può essere significativa e anche decisiva in alcune scelte se la narrazione, il racconto che ci viene presentato è il più accurato possibile. Io ho terminato, grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie.